Se sei stava raggiunto, quello è sopportabile, io nemmeno per servo non lo piglierei. Ah signora, ogni tanto quando può ammettete, ma buona parola. Signora, voi questo non lo potete dire? E io dico quello che voglio, è vero Pasquale? È verissimo, Pasquale, ma tu ti ricordi chi è Carluncio? Quello stasera farà succedere Casa Micciola. Ma cos'è questa Casa Micciola? Ogni tanto sento questa Casa Micciola. Permettetemi, a Casa Micciola ci piace un grande terremoto, è discusso quasi un paese interamente. Si dice Casa Micciola, tutte le volte che è una cosa sulla sua volta. A me questo gruppone non c'ha paura per niente, io dico bene, è tutta la ricerca. Eh, invece a prima danza, ma non c'è, ma non c'è, ma già. Grazie a tutti.